All the good girls you take out for dinner, but all the bad girls you take out for liquor, all the good girls... Attacca lontano da rete, manda in difficoltà Seganov, Pesaresi la deve tenere viva perché la ballera è in campo, arriva Mar della seconda linea, gran difesa di Cavaccini, poi Tilli la tiene viva, ancora Mar, che azione, poi Ishikawa deve regalare la frivol lunga, e invece... Dollo Bernardi, male la ricezione di Scanferla, poi Ishikawa... Il suo rendimento, seguiamo ora Santi... Santi Orduna, argentino naturalizzato italiano, la pipe che gioca Ishikawa... Con Ishikawa, Svertoli per Ishikawa, grande bordata e grande... Venuta bianca quest'oggi, l'attacco di De Palco, debole, capisce tutto Milano e c'è la pipe vincente di... Ancora su Pesaresi, Svertoli molto alto, Ishikawa gioca una pipe e la mette giù... La pipe di Ishikawa, difesa bene da Giaschi Kaziski, pallonetto, ma c'è Tine Hornout, la pipe di Ishikawa... Olt, Svertoli, la pipe di Ishikawa... Olt, Svertoli, la pipe di Ishikawa... Poi Svertoli, cercare proprio il giapponese che arriva e di potenza... Svertoli per Mar, Mar cerca di giocare sul muro, Svertoli dall'altra parte, l'attacco di Padria... Ancora un grande muro da parte della formazione di Monza... La pipe di Ishikawa, ci pensa lui, ci pensa lui a dare il ventesimo punto e il più... In parallela su Tine Hornout, Svertoli, la pipe spostata di Ishikawa, azione perfetta dell'Allianz Milano... Contro Pai... Per Milano, Patria ancora a servizio, ancora Rizzo con qualche difficoltà, deve alzare in bagger Abuba... Che rimette però subito nell'altro campo... Svertoli, la pipe di Ishikawa e gioca bene... Cleveno mette in difficoltà a pesare Svertoli per la pipe di Ishikawa... Adesso la palla di Cisterna che non incide sulla difesa di Milano... Che può attaccare con Ishikawa, muro a due... Palla che cade sui piedi di... Che è l'assi che ha messo giù due ace, due muri... Sì... Molto bene il nostro centrale, Svertoli... Attacca Ishikawa e mette giù... Lei ha una valutazione di Tine... Ricci... Perso Ishikawa... Svertoli per Ishikawa... Il giapponese... Adesso va... Adesso però... Isikawa... Svertoli... Forzato questa alzata con una mano... Non sbaglia Ishikawa... Svertoli miglioratissimo... Sono sincero... Eccolo qui Svertoli... Che... Tiene viva una palla... Poi Ishikawa la chiude in diagonale... Svertoli per... Ishikawa... Ancora un grande gol... Un bacino... Tramissato... Devante... Palaventi due... Questa volta facendo Aldello... In due... Mara a paleggiare... Per Ishikawa... L'attacco di Ishikawa... A tutto il campo... Trelazioni sul servizio di Asparov... In questa volta... Va morbido... Riceve... Cosameric... Ho cercato ancora Ishikawa... Non trova il campo... 16-16... Matteo Piano... Con il suo flott... Ricevuto da Cavazzini... Poi la giocata... Di... Segano... Fermato da Beppe... E Milano... Chiude il punto... Per confinare... Una qualcosa di mai visto... Grande difesa di Patrice... Burnout... Attenzione... Ishikawa... Mamma mia che bu... Bertoli... Ishikawa... Un grande attacco... Il... Recupero che non può arrivare... Perché... Una volta... Cercato ancora il Francese per l'attacco... Murato anche questa volta... Però Milano non chiude il punto... Deve farlo ora... Con Ishikawa... Il primo tempo di piano... Su Rossard... Con una mano rizzo... Incora Rossard... Può di giocare... Milano... Bertoli... Dalla pipe di... Ishikawa... I'm finally facing it all... Fearless... Le Beno... Si autocopre... Poi deve correre... Finger... Patrice... Bertoli... Per la pipe vincente di... Prendere il ruolo di trascendatore... Di questa squadra... Deve cercare di... Alzare il livello del suo gioco... Qui... Ishikawa... Gran numero... Il numero... L'orese... Il piccolo di questa Milano... Ma anche in parte della nazionale... Santi Orduna... Uno contro uno... Ishikawa di nuovo... Sbertoli per Ishikawa... Giapponese... Piega in due... Ha fatto punto Nicolazzi... Eh si... Si passa il sole... Pesaresi... Sbertoli per Ishikawa... L'attacco di Ishikawa... Grande saitta anche di Ishikawa... Sul terro... Schivalla sul Nastro... E poi su... Cosa Merni... Che attacca Ishikawa... Diagonale... Perfetto di Ishikawa... Con una mano Sbertoli... Al limite dell'infrazione... C'è l'attacco di... Serve Flot... Ricebe Ishikawa... Sbertoli... Proprio per il giapponese... Che mette giù... Di... Levenot... Tiene Urnaut... E poi prova l'attacco... Di Ishikawa... Pesaresi... Sbertoli... Ishikawa... Rimane in aria... Ritorna... Sopra... Sopra... E questo è fu... Ishikawa... E trova... Lace... Di nuovo verso posto uno... Attenzione Ishikawa... Tira una botta... Esce... Per mandarla di davanti... Per renderla difficile... Pesaresi... Grae ricezione... Poi... Intanto qui... Cavaccini... Cavaccini... Tira... 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 Tira...